FAS Italia Press News, la nuova rassegna stampa realizzata in collaborazione con FAS Italia. Reperendo notizie da giornali locali, nazionali ed internazionali, FAS Italia Press News vi permette di restare aggiornati su iniziative ed incentivi a favore del settore, novità in ambito legislativo e fiscale, flussi turistici, andamento economico e nuove tendenze, novità tutti i giorni dal lunedì alla domenica, intorno alle ore 9.20, 13.20, 20.20 circa, dopo Media Hotel News. FAS Italia Press News è realizzato con la gentile collaborazione di FAS Italia.